ragazzi qualche novità appena arrivata art riff rock c'è praticamente l'imbarazzo della scelta per fare la scogliera dei propri sogni vi faccio vedere alcuni esempi vedete questa come carina c'è così possibile scegliere questo tipo di scogliera questa qua è stupenda vi faccio vedere come sono fatte sono molto 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 belle per oggi pomeriggio ne monto una e poi faremo un video e ora vi faccio vedere pure un'altra simpatica novità le mantis vi faccio vedere come è piccola e occupa veramente pochissimo spazio ovviamente ci sono i vari potenze c'è tutto a breve le carichiamo sul sito e scoprirete i nostri magnifici prezzi buona giornata a tutti